Mister, complimenti, nel modo migliore per iniziare il 2011 forse era difficile anche solo immaginarlo. Sì, no, ci speravamo di fare una gran partita, non magari in questa maniera, però è chiaro che giocare quasi tutta la partita con l'uomo in più ci ha aiutato parecchio nel risultato così importante. Dall'altra parte, soprattutto il pubblico, perché i giocatori della Juventus e la dirigenza non molto, però hanno attaccato molto l'arbitro, invece pare che lei ha deciso in pese se non tutte giuste, la sua opinione o no? Non lo so, le immagini non le ho viste, dal campo mi è sembrato per esempio l'episodio chiave, credo sia stata l'espulsione, mi sembra ineccepibile, da quello che si è visto poi non so se le immagini mi possono smentire, mi fa piacere così almeno non ci sentiamo in colpa se tutte le decisioni sono state giuste. Mi sembra di vista tattico e psicologico, è stato importante subito il gol di Legottaglia e fare subito il terzo gol in modo da mettere in ghiaccio a quel punto? Sì, abbiamo avuto la reazione nell'immediato e aver fatto poi il 3-1 chiaramente ci ha ridato quella tranquillità che se magari si rimaneva sul 2-1 poteva subentrare l'ansia di portare a termine il risultato ed era dura poi ecco, quindi è stato questo l'episodio importante che diciamo ha richiuso la partita e poi gli ultimi minuti la squadra ha cercato solo di gestire la palla. Mi sa Giovinco forse era l'uomo più atteso oggi, alla fine ha segnato due gol e è stato anche decisivo. Sono contento per lui perché sta crescendo, da un po' di tempo sta trovando la condizione, questa fase sta lavorando molto bene per cui spero che la fortuna adesso giri un po' dalla sua parte perché questo ragazzo ha qualità importanti, non le ha potuto esprimere bene nell'anno solare ultimo perché ha avuto diversi problemi fisici, spero adesso giri un po' per lui. Insomma, ha messo anche in campo, ha fatto vedere un'ulteriore freccia al suo arco che è arrivata da questo mercato che Palladino, la risposta è stata positiva anche perché era nelle condizioni ideali per il suo tipo di calcio forse. Sì, sì, Palladino è un giocatore eclettico, un giocatore che per come giochiamo noi può giocare in tutti e tre ruoli, per cui sono soddisfatto. All'inizio era un po' così impacciato, poi man mano che ha iniziato a giocare ha partecipato alla manovra, ha fatto la sua parte e soprattutto abbiamo risparmiato una buona mezz'ora al nostro vecchietto qua a Crespo. E' un giocatore importante sia dentro sia fuori dal campo.